Grande Fratello, la produzione ha mandato un messaggio agli inquilini. Il compito di leggerlo è stato affidato a Madaloni e Greta Chiamati in confessionale. La puntata di ieri, lunedì 5 febbraio, ha lasciato strascichi pesanti al Grande Fratello. Puntata che ha visto l'addio di Fiordaliso ed il ritorno di Giuseppe Garibaldi che ha raccontato i dettagli del malore che l'aveva colpito. Mi sono messo sul tapis a correre e non ce l'ho fatta. Quel giorno ho mangiato pochissimo, ho fatto colazione a mezzogiorno e non ho proprio pranzato. E ancora, dopo un'ora e un quarto che correvo sul tapis ho sentito che qualcosa non andava. Quando ho sentito che stavo male sono andato a prendere acqua e zucchero per riprendermi, ma non ha fatto nessun effetto. Mi sono messo a letto. Quando mi sono svegliato, qualcosa non mi tornava, non riuscivo a reagire al mio corpo. Stavo andando in bagno, sono svenuto e da lì non ricordo più niente. Garibaldi è pronto a giocarsi le sue carte. Il suo ritorno è un bene per il gioco che ieri ha detto addio a Fiordaliso. Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco a dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile, ha spiegato ad Alfonso Signorini. Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all'ultimo e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita, ha concluso. Nel clima di generale tristezza il grande fratello ha dato una buona notizia agli inquilini. Il grande fratello ha deciso di ristabilire il budget spesa. Una sorpresa, però, sembra rivelarsi dietro quello che è uno scherzo in piena regola. Il budget è di 20 euro a testa, quindi 340 euro. Facciamo i bravi, ci hanno dato un'altra possibilità e conclude Greta, lasciando a Giuseppe, Massimiliano e Paolo il compito di compilare la spesa. Poi, passiamo a Beatrice che spiazza il grande fratello, sbrocca e passa una brutta nottata. Puntata pesante per Beatrice Luzzi l'ultima del grande fratello. Non solo ha dovuto salutare l'amica Fiordaliso, che ha deciso di ritirarsi, ma ha avuto l'ennesimo scontro ferocissimo con Massimiliano Varrese che l'ha talmente avvilita da passare la notte insonne. Per fortuna ha potuto trovare l'appoggio di Sergio Dottavi e Stefano Miele, che hanno raccolto il suo sfogo. Ma cosa è successo? Dopo la diretta di lunedì 5 febbraio, pare che Beatrice Luzzi non abbia più pietà di nessuno. Si è confrontata con Massimiliano Varrese a un certo punto e esplosa tirando in mezzo anche gli autori del reality show. Quanto sei protetto, e Massimiliano, NDR, questa è la verità. Per questo non hai niente da dire. Sei incontentabile, si sente dire nel video. Insomma, Beatrice è convinta che l'attore sia molto protetto da qualcuno all'interno del programma e il riferimento, chiaro, è andato agli autori del Grande Fratello. La reazione di Varrese? È subito andato dagli altri a riportare l'accaduto. Ad Anita Olivieri ha raccontato le accuse della collega e poi ha ammesso di averla ignorata e di essersene andato da un'altra parte. Nemmeno a dirlo Anita è dalla sua parte. Tornando a Beatrice Luzzi, era così turbata per la diretta e il dopo, con Varrese, che non è riuscita ad andare a letto a forza di ripensare a come è stata trattata. Mentre a tarda notte, poco alla volta, tutti i concorrenti sono andati a dormire, lei è rimasta sveglia per quanto era tesa. Con lei, come detto, i nuovi arrivati Stefano e Sergio che le hanno sempre dimostrato amicizia e supporto. La diretta del reality si è però interrotta come sempre alle due circa e quindi il pubblico non ha potuto vedere le immagini della casa. Ma alle 9,30 di mattina gli utenti si sono subito resi conto che Stefano, Sergio e Beatrice erano ancora vestiti come in puntata e, proprio in quel momento, si stavano preparando per andare a dormire. E ancora, fiumi di lacrime per alcuni concorrenti. Grandissima commozione al Grande Fratello, Infatti i concorrenti sono finiti tra le lacrime improvvisamente dopo aver ricevuto la brutta notizia. Non è stato facile accettare una decisione simile, che inevitabilmente ha distrutto la serenità di molti. E il pianto è stata una conseguenza naturale per i geffini, i quali dovranno adesso reagire per superare questo momento. Come si è potuto evincere dalle immagini diffuse anche dalla pagina ufficiale del Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno cominciato ad essere molto tristi per una notizia che li ha stravolti. Difficile riuscire a contenere le fortissime emozioni, infatti alcuni protagonisti del reality show di Canale 5 sono apparsi distrutti emotivamente. Andiamo a vedere cosa è accaduto. La prima al Grande Fratello tra i concorrenti in lacrime è stata Anita, che ha affermato davanti a Rosy Chin, sono veramente arrabbiatissima, è vero, le avremmo fatto cambiare idea. Sai perché non ce l'ha detto? Perché non ha avuto il coraggio. Stefano è scoppiato successivamente a piangere e ha abbracciato la Olivieri, dicendole, piango perché mi ha riempito il cuore d'amore. Il dolore dei geffini è stato causato dall'addio di Fiordaliso, che ha lasciato la casa durante la diretta. E gli altri sono scioccati da questo abbandono inaspettato. Anita ha voluto ricordare un altro episodio con la cantante, ci ha dato quel bacio a letto, sembrava un bacio da Dio. E Rosy Chin ha aggiunto, no, era un arrivederci. E la Olivieri, non è giusto. Non sarà facile per loro andare avanti senza la preziosa presenza di Fiordaliso, che era riuscita ad instaurare dei legami importanti con molti concorrenti del Grande Fratello. Ma l'ormai ex geffina aveva voglia di ritornare a casa dalla sua famiglia. E infine, la rivolta contro i concorrenti del GF. Polemiche del pubblico del Grande Fratello per quanto farebbero spesso i concorrenti nel corso della giornata. Ed è successo anche nella giornata di martedì 6 febbraio, dopo la puntata in diretta del reality show di Canale 5. Non sappiamo se in qualche modo gli autori interverranno dopo questa protesta o se proseguiranno comunque con lo stesso modus operandi. C'è però un problema, sollevato da alcuni telespettatori del Grande Fratello che probabilmente non sarà sottovalutato dalla regia. I concorrenti sono protagonisti di atteggiamenti che non piacciono moltissimo al pubblico, quindi bisognerà correre ai ripari affinché possa esserci meno malcontento da parte di coloro che seguono la trasmissione. La critica in particolare di un utente è arrivata intorno all'ora di pranzo del 6 febbraio, infatti guardando la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra ci si è accorti di qualcosa che accade nella casa del Grande Fratello, coi concorrenti protagonisti in negativo. E si è richiesto un intervento di Mediaset per evitare di assistere a delle scene del genere. L'accusa verso i geffini ha riguardato le troppe ore che impiegano a letto a dormire, creando dunque una certa noia nei telespettatori, le 13 ancora dormono. Ma che senso a staccare la diretta alle 2 di notte e poi guardare questi che dormono per tre quarti ore? Me lo chiedo seriamente. Vedremo se giungeranno risposte da parte dei vertici del Grande Fratello. Quindi, c'è chi polemizza sul fatto che fino a tarda ora c'è chi preferisca dormire al Grande Fratello, rendendo monotona la diretta H24. A questo punto per molti è inutile trasmettere immagini così.